Papa Francesco ha ricevuto oggi in Vaticano il Presidente della Repubblica di Ruanda, Paul Cagame. Al centro del colloquio e di quello successivo con il Segretario di Stato Cardinale Parolin, riferisce una nota della Sala Stampa Vaticana, la ripresa e la stabilizzazione sociale, politica ed economica del Ruanda, dopo le devastazioni della guerra civile e del genocidio dei Tuzzi, e i nuovi conflitti e calamità naturali che stanno creando un gran numero di rifugiati e migranti nell'Africa centrale. È stata rilevata la collaborazione tra Stato e Chiesa locale nell'opera di riconciliazione nazionale di consolidamento della pace. Ricordando quegli anni tragici, il Papa ha manifestato il suo profondo dolore per il genocidio contro i Tuzzi del 1994. Ha espresso solidarietà alle vittime e a quanti continuano a soffrire le conseguenze di quei tragici avvenimenti. In linea con il gesto compiuto da San Giovanni Paolo II durante il grande giubileo del 2000, ha rinnovato l'implorazione di perdono a Dio per i peccati e le mancanze della Chiesa e dei suoi membri, tra i quali sacerdoti, religiosi e religiose, che hanno ceduto all'odio e alla violenza, tradendo la propria missione. Il Papa ha anche auspicato che tale riconoscimento delle mancanze commesse, che hanno deturpato il volto della Chiesa, contribuisca a purificare la memoria e a promuovere con speranza e rinnovata fiducia un futuro di pace, testimoniando che è concretamente possibile vivere e lavorare insieme quando si pone al centro la dignità della persona umana e il bene comune. Infine, c'è stato uno scambio di vedute sulla situazione politica e sociale regionale, con attenzione ad alcune aree colpite da conflitti o calamità naturali, ed è stata espressa una particolare preoccupazione per il grande numero di rifugiati e di migranti, bisognosi dell'assistenza e del sostegno della comunità internazionale e degli organismi regionali.